Quest'anno festeggiamo il sessantesimo, nasce nel 1963, l'anno in cui si è fermata è stato soltanto l'anno del Covid, era nata come un'unica tappa, oggi sono cinque tappe che toccano la città di Ferrara ma anche comuni limitrofi. Si tratta di una manifestazione di corsa campestre che accanto a tutta la parte competitiva della manifestazione abbiamo anche la camminata non competitiva e la corsa dei ragazzi. Quindi un'attività anche ludico-motoria nel territorio limitrofo, in campagna, quindi la corsa campestre fuori dai circuiti cittadini che non prevede la chiusura delle strade, che non prevede problemi sulla circolazione e sul traffico che permette però di vedere il territorio, vedere bene il nostro territorio anche limitrofo, non soltanto della città di Ferrara e di fare attività in natura. Sono appunto cinque tappe tra Ferrara e provincia che vengono organizzate da WISP e Ferrara ma con l'importante e fondamentale supporto delle nostre società affiliate che ovviamente ringraziamo insieme ai loro volontari. Sono appunto come detto delle tappe di corsa campestre quindi una corsa diciamo che qua in pianura da noi è molto allenante però ciò non toglie che può essere partecipata anche da appunto camminatori e non competitivi perché comunque si sviluppa in ambiente quindi è molto suggestivo il percorso che viene allestito su tutte le tappe e soprattutto c'è la parte giovanile dei bambini che è diciamo un primo approccio per appunto questi giovani atleti che poi speriamo che diventino i nostri atleti cittadini attivi del futuro e per loro quest'anno abbiamo dedicato un gadget particolare, una calamita che sarà diversa per ogni tappa che possono collezionare per tutti quanti comunque ci sarà un premio di partecipazione e poi ovviamente per i competitivi ci sarà anche una classifica finale di tutto l'evento. 60 edizioni è un dato importante, una sola edizione saltata nel 2020, questo significa che è una manifestazione radicata nel nostro territorio perché si sviluppa nel nostro territorio ma soprattutto tra i ferraresi e non solo. Poi la corsa campestre è un po' nel DNA dei ferraresi, proprio recentemente la città di Ferrara ha ricevuto la bandiera azzurra dalla FIDA insomma la corsa, la corsa campestre, la marcia fanno parte della nostra storia sportiva di Ferrara quindi credo che anche questa volta ci sarà l'occasione per fare questa corsa campestre ma insieme alle famiglie anche in maniera perché non sempre si corre per arrivare privi ma anche per stare bene una giornata in compagnia dei propri familiari e amici.